Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, dopo ferragosto ci troviamo di nuovo davanti ai grafici è stato per fortuna un ferragosto tranquillo da un punto di vista di mercati finanziari spesso in questi frangenti relativi ad esempio alle festività o a situazioni dove ci sono non tutti gli operatori davanti ai grafici succede un po' di tutto, invece questa volta è andata bene, è andata bene però ragazzi oggi invece di andare a guardare il solito bitcoin che guarderemo in ogni caso volevo fare il punto della situazione su Ethereum, perché? Perché Ethereum rappresenta un po' quello che è una bussola per il mercato delle altcoin nonché anche il mercato del DeFi che in questo periodo preciso, in questi ultimi mesi, in questa parte di anno ha dato grande slancio al mercato criptovalute, è anche vero che abbiamo visto negli scorsi video la market cap non ha subito grandi modifiche e la dominanza di bitcoin resta comunque molto alta ancora perché? Perché le coin della DeFi non sono sufficientemente grandi per andare insomma ad intaccare la dominanza di bitcoin in maniera importante, però abbiamo anche notato che questo mercato è in una specie di bull run selettiva la definirei così, quindi alcuni titoli come Chainlink hanno fatto dei risultati mostruosi ragazzi il mio portafoglio di cripto, quello il Crypto4Pump che vi avevo indicato un paio di mesi fa circa ha una percentuale di profitto sul link che ha dell'incredibile, ve lo dico chiaramente insomma credo sia l'operazione così veloce, insomma in un lasso di tempo così breve più grande che ho fatto nella mia vita perché mi sembra di avere un profitto intorno al 300% comunque lo vedremo magari in un altro video ragazzi va, link ha avuto un rialzo incredibile così come band, così come altri token, altre coin legate al mondo DeFi però se io volessi andare a cercare di capire quando questa eventuale fase rialzista che potremmo definire una specie di mini bolla anche se non credo sia così in questo caso potrà essere diciamo delicata, quando un evento di questo tipo potrebbe scaturire una fase di ribassi per tutte le altcoin in questione e quindi debolezza per il mondo DeFi ragazzi guardiamo Ethereum perché tutto il mondo DeFi si basa su Ethereum in pratica ma anche tutti i per esempio gli exchange decentralizzati che abbiamo utilizzato per alcune operazioni come Aniswap per esempio con il discorso di Ampol Ampol tra l'altro ragazzi farò un aggiornamento a breve che è diventato una coin terribile perché è andata giù pesante ma ne parleremo poi e vi farò vedere tra l'altro l'unico grafico importante da guardare su Ampol ma ne parleremo in settimana quindi iscrivetevi ragazzi se ancora non l'avete fatto al canale così andremo a trattare anche questi argomenti però la coin di riferimento del mondo altcoin resta Ethereum ragazzi soprattutto per la DeFi più che Bitcoin quindi andiamo a parlare di Ethereum andiamo a vedere Ethereum sul lungo periodo o medio periodo diciamo così che cosa potrà fare cosa sta disegnando l'analisi ciclica prima di andare avanti ragazzi vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale oggi mi vedete solo via grafico quindi non sono face off on perché semplicemente non sono in sede ragazzi sono in vacanza ancora però mi premevo a fare sempre questi video aggiornamento importanti perché sono secondo me molto rilevanti anche in questa particolare fase del mercato allora abbiamo davanti Ethereum e già la dice lunga per esempio questo grafico perché? perché ragazzi mi chiederanno distrutto tutte le resistenze le vedete qui resistenze di breve resistenza di medio resistenza di lungo poi cambierò tutta questa struttura oggi ho voluto lasciarvela così con i vecchi nomi proprio per indicarvi e farvi vedere come il rialzo degli ultimi delle ultime settimane ha dato così slancio a questa criptovaluta tanto da fargli distruggere in pratica tutti i livelli di resistenza e indicare in maniera chiara e univoca che dai minimi di marzo è partito un nuovo ciclo annuale in termini di analisi ciclica ora ragazzi analizziamolo questo ciclo annuale facciamo sempre riferimento a Bitcoin per quello che riguarda l'analisi ciclica oggi invece lo andiamo a fare su Ethereum allora ragazzi intanto vi metto un log perché? perché non riesco a far vedere bene l'andamento di Ethereum visto i grandi rialzi quindi ragazzi in pratica ci spostiamo questa struttura a 360 giorni e vediamo 365 che dovrebbe scadere intorno a marzo ovviamente del 2021 cosa sta succedendo in questa fase? questa forma ciclica dell'annuale di Ethereum sembra palesemente indicare un annuale ternario ragazzi almeno al momento cosa significa ternario? vi faccio capire la parte della metà del ciclo annuale è in questo caso di natura rialzista quindi non ha una fase di ribasso bensì ce l'ha al rialzo perché vedete questa struttura in pratica ha tre che è una struttura fatta in questo modo questa dovrebbe essere la struttura dell'annuale di Ethereum se è regolare, se è ternario come stiamo ipotizzando in questo caso quindi andiamo ad analizzare in pratica quelle che sono le fasi di debolezza della regina del mercato crypto per capire anche come potremmo poi vedere muovere per esempio le coin della DeFi perché una debolezza di Ethereum difficilmente sarà ignorata secondo me anche dal resto del mercato altcoin quindi potrebbe essere una crypto che dà un'ottima indicazione in questo caso di un eventuale magari scoppio di questa fase rialzista e quindi anche un avviso a tutti quelli che hanno per esempio gli investimenti come anche me insomma ragazzi con il portafoglio che vi ho fatto vedere di proteggere appunto quei portafogli iniziando magari a costruire delle exit strategy da quelle operazioni allora dal punto di vista ciclico abbiamo un ciclo A2 che è stato, che è terminato più o meno verso luglio adesso Ethereum sta creando questa fase molto ampia che dovrebbe essere questa così ragazzi dopodiché da novembre in poi dovremmo iniziare con una fase successiva che dovrebbe andare a chiudere il ciclo annuale quindi in sostanza ragazzi abbiamo due zone di possibile top per quanto riguarda Ethereum una è tutta questa fascia temporale che vedete tutta questa zona ragazzi quindi fino a settembre-ottobre ancora non dovremmo avere particolari spunti di debolezza ragazzi qui non parlo di debolezze di qualche giorno io qui parlo di mesi, settimane quindi trend praticamente ribassisti di breve insomma ragazzi ecco non sto parlando del fatto che non possa fare due o tre giorni di ribasso o una gamba ribassista di questo tipo ragazzi queste sono cose molto semplici che possono avvenire sui mercati in maniera molto veloce si chiamano anche diciamo rumori sul trend quindi non sono neanche definibili trend io vi parlo proprio di gambe lunghe quindi di trend fatti così che durano mesi ragazzi una cosa del genere non semplicemente il giorno di ribasso ci tengo a specificare ma molti magari non comprendono magari queste differenze importantissime allora durante questa fase che è la fase di top probabilmente di questo ciclo alternario Ethereum dovrebbe disegnare dei massimi i massimi che ora vedremo incontrano una resistenza a 500 dollari abbastanza importante dopodiché ci sarà entro questa fase probabilmente sarà verso settembre-ottobre una chiusura di questo ciclo questo ragazzi è difficile da prevedere in termini temporali quindi dobbiamo aggiornarci di volta in volta da questo punto di vista e poi avremo una ulteriore fase di ripresa questa ulteriore fase di ripresa potrebbe in effetti innescare un nuovo massimo se la criptovaluta in questione non sarà debole in questa fase di chiusura insomma entro novembre questa cosa però possiamo saperla solo andando a controllare in pratica il mercato nelle prossime giornate però ci dice anche un'informazione importantissima che tecnicamente a meno di cambi radicali di questa struttura la criptovaluta la regina delle criptovalute non dovrebbe avere particolari problemi fino a novembre anche dicembre da lì in poi ragazzi arriva la naturale fase di chiusura del ciclo annuale che dovrebbe essere vi faccio l'esempio disegnandolo normale così ragazzi quindi diciamo fino a qui non c'è magari particolare problematica e poi da qui in poi c'è invece la fase ribassista del ciclo l'ho disegnato molto più lungo e vi dà un'informazione importantissima perché perché ci dice che questa fase di up del mercato altcoin potrebbe non essere arrivata bensì essere addirittura in una fase normale quindi magari di ripensamento magari di riflessione per le chiusure dei cicli mensili dei cicli intermedi ecco diciamo così però non proprio nella fase di pericolo che dovremmo avere invece più in là dopo novembre novembre che tra l'altro è un momento particolare perché coincide ragazzi lo sapete con le elezioni degli stati uniti d'america quindi importantissima poi ci sarà da vedere un'eventuale ripresa del virus insomma settembre-ottobre ragazzi sono mesi assolutamente con gli occhi aperti sui mercati quindi godiamoci questi giorni di ferie e poi si passa ad un'analisi diciamo dei mercati sempre più accurata verso quel periodo altra cosa che volevo farvi vedere sempre su Ethereum il suo livello di resistenza prossimo allora il suo livello di resistenza prossimo coincide con questo punto qui quindi intorno in pratica alla zona vedete 500 dollari è un primo livello di resistenza e poi abbiamo un secondo livello di resistenza quello secondo me più importante che è questo qui allora può arrivare in effetti a questi livelli sono molto alti sì ragazzi che ci può arrivare perché se un trend continua così come sta facendo nulla vieta alla regina delle cripto appunto di poter essere di poter arrivare a anche 500 o tra 500 e 625 entro il massimo del ciclo annuale se abbiamo fatto i conti in maniera corretta potremmo avere tranquillamente questo tipo di andamento ragazzi vedete e poi andare in close di questi cicli quindi questa view che è estremamente positiva chiaramente potrebbe assolutamente avvenire quindi non è una cosa strana come vedete io vi ho disegnato anche due fasi e non parlo di target di prezzo ma di fasi di forza una che è ancora qui quella che stiamo vivendo in questo momento e poi l'eventuale successiva eventuale successiva che dipende molto da questo minimo perché se questo minimo sarà molto pronunciato allora è difficile che Ethereum riuscirà magari a fare un nuovo massimo ma questo non possiamo saperlo con mesi di anticipo è assolutamente follia pensare a una cosa del genere quindi ragazzi Ethereum ancora ha tanto da dare potrebbe essere ancora positiva per i prossimi mesi non siamo nella fase del ciclo annuale pericolosa a meno di cambi radicali sul grafico ragazzi quindi con una price section che mi indica che sta crollando tutto questa view resta valida passiamo velocemente ad analizzare Bitcoin vi faccio vedere come Bitcoin lo stiamo analizzando più in termini di vediamo se riesco ragazzi purtroppo da iPad è sempre molto complicato fare ecco la view sul grafico allora su Bitcoin vedete che questa fase è ancora molto delicata perché la resistenza a 12 regge ragazzi regge però è anche vero che abbiamo questa fase temporale prima della fine mese di agosto i primi di settembre vedete di positività e il mercato deve assolutamente farci questo ragazzi dobbiamo rompere la 12 100 quindi la resistenza 12 con una chiusura settimanale al di sopra ve lo ripeto 10 volte lo sto dicendo ormai da mesi chiusura settimanale al di sopra di questo livello di resistenza perché è un livello molto importante di lungo periodo e poi al di sopra di questa resistenza allora anche se andiamo a fare un eventuale pullback anche se il mercato ritornerà a 11000 sarà diverso questo tipo di movimento ribassista invece un mancato superamento di resistenza 12 e 100 presuppone che siamo ancora in un limbo di lungo periodo per bitcoin e non va bene ok ve lo dico chiaramente poi ragazzi potrebbe tranquillamente decidere di fare una barra di congestione così e romperlo nel prossimo ciclo questo è anche valido però se lo fa già in questi giorni beh ragazzi noi siamo tutti più felici quindi bitcoin l'unico livello da guardare la resistenza in questione è il minimo che vedete qui in questo momento vi faccio anche una indicazione veloce dovete guardarlo molto attentamente questo minimo delle scorsa settimana che in questo momento è 11000 dollari e al di sotto di un minimo del genere è pericoloso ragazzi potremmo andare in una close è un'inversione insomma sicuramente magari un retest della resistenza vecchia di medio periodo a 10 e 5 bene ragazzi allora per oggi è tutto vi chiedo una cosa però di farmi sapere cosa pensate sulla view di ethereum come siete posizionati sulle altcoin cosa pensate possa succedere alle altcoin nei prossimi giorni nelle prossime settimane per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video e nulla torno al mare ciao ragazzi di